Antonio Montinaro aveva 30 anni quando il 23 maggio del 1992 venne ucciso dall'esplosione nella strage di Capaci pianificata per eliminare il giudice Giovanni Falcone. Cosciente dei rischi che correva ma innamorato dello Stato, Montinaro, assistente della Polizia di Stato, capo della scorta di Giovanni Falcone, è diventato oggi un esempio del coraggio e dell'abnegazione della Polizia di Stato. Proprio alla sua memoria è stata intitolata la targa dell'Aula Magna della Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara con una cerimonia a cui ha preso parte il prefetto Maria Luisa Pellizzari, vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie. Un momento per noi importantissimo, noi crediamo moltissimo nel valore della memoria, di ricordare quelli che sono i nostri caduti perché sono persone che rappresentano per noi un faro, un punto di riferimento attuale per come deve essere un poliziotto per i valori che deve avere dentro di sé e nel suo percorso quotidiano. Quindi per noi Antonio Montinaro sono passati 31 anni da quei 13 e 20 ma è sempre in mezzo a noi, nei nostri cuori e nelle nostre scuole. Questa è una scuola per il controllo del territorio ma noi ormai l'abbiamo fatta diventare una scuola anche per gli allievi agenti, qui si formano le nostre nuove generazioni di poliziotti, abbiamo dei valorosissimi e dei bravissimi istruttori e quindi per noi questa è una scuola che rappresenta un punto di riferimento per la formazione. Nel corso della mattinata è stata inaugurata anche la mostra dal titolo al servizio del paese, frammenti di storia italiana attraverso le immagini della polizia di stato contenente 25 pannelli fotografici con sette aree tematiche come l'impegno contro le mafie e la lotta al terrorismo. Tra gli invitati alla cerimonia di intitolazione dell'aula magna anche Tina Martinez, moglie di Antonio Montinaro. Io penso che è il mestiere più bello del mondo, quello del poliziotto, perché il poliziotto è quello che sta in mezzo alla gente, è quello che trasmette, la fiducia che deve avere la gente nella polizia. È più una missione, non è un lavoro, perché il poliziotto rimane poliziotto sempre, anche quando non è in servizio. Ho avuto un grande marito, è bellissimo la targa qui fuori, tutti gli allievi che verranno negli anni, leggeranno il nome di Antonio, questo poliziotto che arriva da Bergamo per arrivare a Palermo e scortare l'uomo più a rischio d'Italia, quindi lo devono vedere come esempio. Se l'intento dei mafiosi era quello, è finito tutto, abbiamo vinto noi, si sono sbagliate, perché visto che tutta la famiglia entra in polizia, hanno ucciso Antonio Montinaro, ma sicuramente non Tina Montinaro. E dimostriamo che quel maledetto 23 maggio non li hanno fermati.